E comincia a ballare! Ma cos'è sto freddo? Ma io dovevo grigliare! Chi è che mi ha fatto venire qua con sto freddo per grigliare? Come si fa a grigliare con questo freddo? Eh ma tranquillo, grigliamo il pandoro! Ma dove sono gli altri? Ma che pandoro? Ma qui dobbiamo fare l'ambientazione per i giochi d'acqua! Sì Chiara, ma quali giochi d'acqua? Qua al massimo possiamo giocare a palle di neve! Ah, non è per agosto? Ma no, è Natale! Ma non li vedi le luci? Babbo Natale, i coriandoli? Ma allora perché siamo vestiti così? Abbiamo sbagliato tutto! Forza ragazzi, ma cosa state facendo? Andatevi a cambiare! Oh, questo sì che è il look adatto! Ecco gli auguri di Natale del gruppo Aro e Diciottenni! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, sta finendo di fare il super albero! E' bello che stai dicendo di fare il super albero! Ma mi raccomando, non stateci troppo vicino! Perché altrimenti diventate così! Tanti auguri di Buon Natale a tutti! Da Albre Augusto! Le cose più belle della vita non si trovano sotto l'albero! Ma le persone che si stanno vicino ai momenti speciali! Buon Natale! Oh oh oh! Buon Stodio Tale! Cosa? Ah, scusate! Buon Natale! Oh oh oh! E scusi, lei dove sta andando? A spiare! E non si può! Allora vado giù in foglia dei parenti! E non si può! Allora 24 faccio il cenone! E non si può! E che cosa posso fare allora? Augurare Buon Natale! Buon Natale! C'è qualcosa che manca! E no! Non è la domanda sul fidanzatino, beh! Ma è l'agnese! No papà, agnese! No papà! Agnese! Beh agnese, cosa ci resta mai se non augurare? Un buon Natale a tutti! A voi e a tutte le vostre famiglie un carissimo augurio di Buon Natale!